Tre anni di comando provinciale intensi per il colonnello Nazareno Sant'Antonio che lascia la guida per un nuovo incarico alla DIA a Roma come capo di visione analisi del reparto che si occupa di indagini preventive. Al suo posto il colonnello Nicola Miranti dal comando generale che si insediera a lunedì. Una provincia con una grande tensione al futuro e con tanta voglia di migliorarsi cosa che si percepisce di più all'Aquila, questa ha trovato, ha detto, e lascia un territorio che sta subendo i contraccolpi della pandemia ma nonostante tutto la popolazione si è dimostrata resiliente anche nelle istituzioni con uno spirito di squadra che ha vissuto e apprezzato con una grande collaborazione della stampa che è stata un'estensione sul territorio dell'attività dell'arma, ha spiegato. Dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica Sant'Antonio parla di una città che non aveva livelli di allarme, tuttavia come primo obiettivo c'è stato il contrasto ai reati predatori come furti e truffi agli anziani, i risultati sono stati buoni anche per il contrasto allo spaccio di droga nella Marsica, per le infiltrazioni negli appalti ci sono state tante attività grazie al prefetto di controllo dei cantieri con alcuni provvedimenti interdittivi ed alcune ditte, il presidio di località insomma ha funzionato. In città il nucleo investigativo poi ha dimostrato grandi capacità risolvendo il delitto di Barisciano, importante tutto il sostegno alla campagna vaccinale nei piccoli comuni e non solo e anche nell'effettuazione dei tamponi, più di 80.000. Questa città mi resterà nel cuore, ha detto perché l'ho vissuta a pieno, mi sono innamorato di questa terra, vado via con un po' di dispiacere, non solo un fatto professionale ma un'esperienza umana straordinaria. Lascio una città sempre più bella, una città che è rinata e che è destinata a rappresentare un punto di riferimento nel Parlamento nazionale dal punto di vista culturale, dal punto di vista della sicurezza e anche dal punto di vista del patrimonio architettonico e dei beni culturali. Tutto quello che siamo riusciti a fare in questi tre anni lo devo sicuramente all'impegno, alla passione, alla professionalità dei carabinieri di questa provincia, delle 60 stazioni della provincia che si sono dedicati completamente alla tutela dei cittadini, soprattutto in questo periodo di pandemia. Il comando provinciale è un comando importante, gli organici non subiranno modifiche, si sta acquisendo nuovo personale per rimpinguare le stazioni periferiche. Durante la pandemia non abbiamo mai chiuso stazioni, ha detto, nonostante anche noi abbiamo avuto carabinieri positivi al covid. A breve lascerà il comando della stazione anche il maggiore Luigi Balestra che andrà a comandare il nucleo investigativo di Agrigento.